Super settimana per Bitcoin Prima supera l'altime high in euro Dopo qualche giorno firma un nuovo altime high a 70.000 dollari seppur per pochi minuti Tether mint a un miliardo di nuovi USDT Coinbase va down per tre volte durante i grandi pump di Bitcoin Periodo di grandi airdrop, tra Tyco e Runestone, lipe nel mondo cripto è tornato CryptoPunk registra la seconda vendita più alta di sempre a 4.500 ETH Settimana di grandi liquidation, liquidati oltre un miliardo e mezzo di futures Robert Kiyosaki prevede Bitcoin a 300k entro il 2024, ma è lo stesso che ha chiamato il 12k quando eravamo a 15 Lasciate un like e seguiteci, e ricordate di tenere sotto controllo la FOMA